Buonasera cari amici del Rione, ben ritrovati a questa serata di musica al Fabio Reale and Friends, le cantavo da bambino, qui con noi c'è Teodoro, ciao Teodoro. Buonasera, buonasera a tutti voi e buonasera a questo bellissimo staff e soprattutto a te Rione, lo sai, che ti voglio bene. Anche tu lo sai, siamo molto amici con Teodoro, ho una nuova promessa, diciamo così, ma che promessa, oramai è una certezza della musica napoletana, si dice che tu abbia una delle più belle voci sul panorama napoletano di oggi, sei d'accordo? Allora, sono d'accordo perché lo dici tu, però ti posso dire che ci sono tante belle voci sul panorama napoletano, ci sono tanti amici che sono bravissimi e ovviamente quello che io auguro per me lo auguro per loro assolutamente, perché credo che sia giusto così, fa parte della vita e fa parte della regolarità della vita, quindi credo che è giusto così. Molto spesso si denigra la musica neomelodica, anzi questo termine è stato creato proprio per dargli un'accezione negativa, però è anche con gli artisti come Teodoro che dimostriamo che la musica neomelodica non è solo una musica di un certo tenore, tu cosa ne pensi? Allora, la musica neomelodica va sempre rispettata in ogni cosa, in ogni sillaba, in ogni strofa o ritornello che si canta, perché la musica napoletana è Napoli e la facciamo solo a Napoli, ok? Non disprezzando ovviamente chi è di Palermo, di Catania, della Sicilia intera, che comunque gli piace di cantare napoletano, ma la vera musica napoletana, come sappiamo tutti noi, è nata a Napoli, quindi denigrare cosa? Una cosa che ti riempie il cuore di gioia o magari che ti fa stare bene, quindi è assurda questa cosa. Mi piace tantissimo questo senso di unione che avete voi cantanti neomelodici, ecco. Ti chiedo, qual è il pezzo al quale sei più legato? Ma dipende di quale pezzo parli, se parli del mio pezzo o magari di un pezzo di un artista neomelodico. Entrambe, entrambe le cose? Allora, io c'ho un mio pezzo che, ringraziando Dio, mi ha dato tantissime soddisfazioni. Si può dire che se Teodoro è un ragazzo che attualmente è conosciuto e non è conosciuto, è grazie a questo pezzo che si chiama Musunghio, che ovviamente farò ascoltare questa sera in questo bellissimo spettacolo del mio amico Fabio Reale. E poi io sono fan, sono innamorato, come anche il Rione sa, di Gigi Finizio. Quindi io sono nato con le sue cover, ti sto parlando di 7-8 anni fa, che sono cresciuto con queste cover di Gigi Finizio, dove, ringraziato Dio, mi hanno dato tantissime soddisfazioni. Ho lavorato tantissimo con questi brani ed ecco qui. Questo è Teodoro. Per salutare gli amici del Rione, in modo musicale, in musica, ci faresti un pezzettino di Musunghio? A disposizione. Grazie Teodoro, buon divertimento in questa splendida serata. Grazie a voi, buona serata.